Di quale bambino stiamo parlando? E lo vede questo bambino, signora? Cosa dovremmo vedere qui? Ma perché tu lo vedi? Certo che lo vedi. Tutti lo vedete? Tu lo vedi? Ti sta guardando. E non lo vede! Perché non lo vede! Perché non lo vede! Sì, che la donna lo vedrà sicuramente. Niente di niente. Io lo sapevo.